Tutto pronto per la tredicesima giornata di campionato di Serie A di calcio A5. I match di domani e dopodomani segneranno la fine del girone di andata in concomitanza con la fine dell'anno. Alle 20.45 a Montesilvano l'acqua e sapone se la vedrà con i siciliani del Metacatania. Tra le fila degli abruzzesi milita, o meglio militava, il pivot Carlo Labella. E' notizia di ieri, infatti, il divorzio con la società abruzzese e l'inizio dell'avventura con l'Active Network di Viterbo, attualmente nel girone C di A2, prossima avversaria quindi del Cusmo Lise. I ragazzi di Mister Scarpitti si troveranno di fronte ad una squadra che non conosce mezze misure. Su dieci partite disputate, infatti, cinque sono le sconfitte e cinque le vittorie collezionate. I rosso-azzurri siciliani, guidati da Salvatore Samperi, dovranno fare a meno del laterale Mariano Quintairos, connannato a saltare un turno. Sempre domani, ma alle 20, occhi puntati sulla Fel di Eboli, che con le sei reti della boa Campobassano Umberto Caruso si appresta ad affrontare la Colormax Pescara. Gli abruzzesi, ad otto punti in classifica, sono reduci da tre sconfitte e una vittoria con ancora una gara da recuperare. Obiettivo dei Bianco Celesti sarà quello di proseguire il trend positivo dopo la vittoria contro il Mantova. Fel di Eboli, invece, attualmente ha 17 punti, che proviene da due giornate non esaltanti, con una sconfitta e un pareggio, quest'ultimo contro la CDM Futsal di Genova. Obiettivo di Mister Alberto Riccher sarà invertire la rotta. Da segnalare l'assenza del laterale Romano Sergio e del pivò Montes del Rio Daniel. Rotta che deve essere invertita anche dalla Niene, con il portiere Fabio Tondi, che in questo caso sarà ex di turno, in quanto se la vedrà con la Sandro Abbate Avellino, che milita nelle zone alte della classifica con 20 punti. A Niene che non ne vuole proprio sapere di fare tre punti, con tre sconfitte su tre turni giocati. La Sandro Abbate, invece, proviene da un doppio turno interno, che gli ha regalato sei punti con delle vittorie di misura. I campani dunque chiuderanno l'anno nel Lazio e apriranno quello nuovo in Abruzzo, in casa dell'Acqua e Sapone.